Questo è Edoardo e questa è la sua vita Come ogni mattina la sua patetica giornata iniziava alle 7.03 Per andare agli uffici di Dexilla.it A registrare una nuova puntata del notiziario Lo odiava quel lavoro Le bollette si accumulavano E le scadenze per l'affitto lo attanagliavano Solo questo lo tratteneva a lavorare per quella manica di fasulli E a leggere notizie inutili per gente disinteressata Odiava davvero quel lavoro Ma d'altronde guardatelo Da uno del genere che vi potete aspettare Aveva un sacco di amici Su Facebook E neanche con le ragazze se la cavava male O quasi Non ci credete? Ecco la sua giornata tia Google ha lanciato Google Music Il nuovo servizio per acquistare e condividere musica nel proprio cloud Attualmente disponibile solo in America Ma già pronto a competere con iTunes e Amazon Le notizie erano una solida pacottiglia rimescolata Niente di più Call of Duty Modern Warfare 3 ha sbaragliato tutti i record di vendite Ma quel giorno aveva ben altro a cui pensare I 400 milioni di dollari Nei primi 5 giorni Anna Lisa per esempio Una ragazza che Edoardo tampinava da 2 anni Senza risultati 5 giorni Partite le vendite del Galaxy Nexus nel Regno Unico Il tuo sogno nel cassetto era diventare normale Ma c'è entrato dove? Sì ma non la senti? Un sogno che sarebbe rimasto realizzato dopo i 5 anni al Dupal Demons Online le prime recensioni tutte entusiasti L'istituto psichiatrico di Rhode Island Ed ora lo vedete qui tutto incravattato Ma aveva il pessimo vizio di affugare i propri dolori all'alcol E a volte è la voce Ma che è? La voce? Schirim convince tutti il nuovo film roaming rpg di besta Ho già accennato il suo problemino con le donne Diciamo che senza l'aiuto del suo piccolo amico blu Le sue performance sotto le lenzuola non erano Ecco sufficienti Per non parlare della sua macchia più grave L'accusa di omicidio plurimogravato Che cazzo c'entra? Perché devi di fatti mie? Una famiglia distrutta nel giro di pochi secondi Ma non lo senti la voce? Che cazzo c'entra? Perché devi di fatti mie? Perché? Che c'entro io adesso? Prima o poi lo avrebbero preso Era solo questione di tempo Oh madonna? Il capo della giustizia si sarebbe presto stretto Ma il martellino? Sul suo gracile collo è piegato Basta non c'entro niente con sta storia Iscrivetevi al canale 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 iscrivetevi al canale